La Presidente Umbra, Catiuscia Marini, ha rivendicato la sua assoluta estranietà rispetto alla sua posizione di indagata nell'inchiesta sui concorsi all'ospedale di Perugia. Ho appreso grazie al puntuale lavoro degli inquirenti di una situazione sconcertante, ha detto Marini, che, se sarà confermata, risulta molto grave per la nostra regione. Tutelerò anche l'integrità morale della mia persona e della figura di Presidente della Regione, perché, se confermato, ho il dovere di difendere non solo Catiuscia Marini, ma la Regione che rappresento, ha aggiunto. In questa fase mio interesse è ricercare la verità, ha sottolineato ancora la Presidente della Regione. No a strumentalizzazioni, ha rivendicato Marini, non posso che vedermi come una interlocutrice, ha aggiunto, prima ancora che soggetto a difesa dell'autorità inquirente. Con questa vicenda, oltre ad aver ribadito, come ho detto all'inizio, la mia estranietà, tutelerò anche l'integrità morale della mia persona e della mia figura di Presidente della Regione. Perché, se confermato, abbiamo il dovere di difendere, e ho il dovere di difendere non solo Catiuscia Marini, ma la Regione che rappresento. Grazie